Presidio dei lavoratori della Diali Fluids, questa mattina dinanzi la sede della regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara, una cinquantina dei 110 operai dell'azienda con sede a Canosa Sannita in provincia di Chieti, facente parte del gruppo tedesco Fresienius Medical Care e che specializzata nella produzione di attrezzature mediche, in particolare delle sacche e delle soluzioni per la dialisi peritoniale, sta protestando per chiedere l'intervento della regione nella vertenza in corso che prevederebbe per il mese di luglio prossimo con decorrenza primo settembre la chiusura della fabbrica che si trova in provincia di Chieti. Crediamo, ha spiegato il delegato della RSU aziendale Will Alessandro Primante, che non si stia facendo probabilmente il possibile per salvare l'azienda dalla chiusura. Abbiamo chiesto un intervento della politica ma fino ad oggi davvero nulla. Stiamo parlando di 110 famiglie che rischiano di restare senza lavoro e di un paese di mille abitanti che si regge soprattutto su questa azienda. La proprietà tedesca, ha spiegato il delegato della Will, nell'incontro del 17 dicembre scorso aveva parlato dell'interesse di due aziende italiane a rilevare l'azienda, ma su queste trattative non abbiamo saputo più nulla. La verità è che chiediamo alla multinazionale tedesca da quattro anni un nuovo piano industriale che non è mai arrivato, con la conseguenza che molti dei nostri clienti sono stati di fatto assorbiti proprio dalla Fresenius e che siamo a pochi mesi dalla chiusura se non dovesse accadere qualcosa.